Christina Ricci è stata il volto di Mercoledì Adams, è cresciuta insieme alla generazione Z ed è stata il volto di tanti altri classici come Casper. Ma come abbiamo visto in altri video, entrare nel mondo di Hollywood in giovane età può essere molto duro e non tutti ne escono indenni. È un'industria spietata senza controllo a cui non interessa se sei ragazzino o adulto, verrai trattato allo stesso modo e anche lei ha raccontato dei suoi traumi come giovane star. Oggi parliamo di Christina Ricci. Sigla! Salve a tutti amici e bentornati all'ora del tè. Dunque siamo qui di nuovo a parlare di Christina Ricci perché dico di nuovo sia perché l'abbiamo nominata nel video di Aston Kutcher che vi lascio qui sia perché questa è la seconda volta che registro questo video perché la prima volta mi ero dimenticata di accendere il microfono e non dovrebbero succedere queste cose dopo un anno che sei su YouTube e invece a me succedono. Quindi eccoci di nuovo qui a parlare di Christina Ricci. Per me, per voi la prima volta, per me non lo è. Bene. Dunque abbiamo nominato appunto Christina Ricci nel video di Aston Kutcher perché hai lasciato delle dichiarazioni che poi dopo rivedremo. e quindi ci siamo chiesti se effettivamente anche lei avesse passato tutto quello che hanno passato le giovani baby star che entrano molto prematuramente nel mondo di Hollywood. La risposta è sì. La risposta è sì. Ma. C'è un ma. Il primo ma è che lei non è crollata come le altre baby star quindi non ha avuto grossi problemi di droga, ha avuto disturbi alimentari eccetera che poi vedremo però non ha diciamo fatto gesti eclatanti, mettiamola così, che abbiano fatto individuare il problema anzi lei si è sempre sforzata di nasconderlo e lo ha poi rivelato in età adulta e seconda cosa lei è un tipo molto 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 riservato infatti nel corso degli anni ha rilasciato delle dichiarazioni a cosiddetti spizzichi e bocconi le ha rilasciati un po' un giornale in uno, un giornale in altro quindi io praticamente sono passata, sono rimbalzata da circa una quindicina, una ventina di articoli di tutti questi anni in cui lei rivelava a piccole parti la sua vita che per carità è giusto che voglia mantenere la sua privacy perché non è che deve parlare per far fare video a me ci mancherebbe anzi, però è stata sempre molto vaga, diciamo che ha sempre lasciato intendere senza dire quindi cominciamo e analizziamo tutto prima di cominciare salutiamo lo sponsor del video di oggi oggi proviamo degli hamburger vegani di melanzane che ho comprato su Coro sul sito di Coro troverete un sacco di prodotti introvabili in Italia di cui il 99% vegani o vegetariani siete rientrati tardi dal lavoro, non sapete cosa cucinare, volete qualcosa di sfizioso ma che sia anche veloce ed ecco qui perché ho scelto proprio gli hamburger vegani così mangiamo un po' di verdure che ci fanno bene perché io sono come i bambini cioè a me le verdure non piacciono, devi presentarmene in maniera creativa e quindi quando ho visto gli hamburger di melanzane ho detto via mangiamo un po' di verdure proviamolo buono la sostenibilità è uno degli obiettivi che Coro vuole raggiungere insieme ad un consumo consapevole visitate lo shop di Coro e inserendo il codice ora del tè nella pagina del pagamento riceverete uno sconto esclusivo bene cominciamo Cristina Ricci è nata a Santa Monica in California nel 1980 ed è la più giovane di quattro figli sua madre Sara ha lavorato come modella per la Ford Agency e successivamente è diventata un'agente immobiliare mentre suo padre Ralph ha fatto diversi lavori fino a che il suo ultimo lavoro è stato quello di terapista dell'urlo primordiale o urlo primario si chiama ho visto in entrambi i modi che cos'è? Io non lo sapevo ma è una disciplina è una terapia che da come ho capito è rifiutata correggetemi se sbaglio è rifiutata dalla psicologia e dalla psichiatria però in sostanza si tratta di far rivivere dei traumi di far sfogare le persone che hanno avuto dei traumi soprattutto ragazzini o bambini proprio attraverso delle urla quindi con il dialogo si capisce qual è il problema che frena le tue emozioni o che comunque non ti lascia esprimere totalmente le emozioni e poi si tratta di urlare per cercare di sfogare la sofferenza e affrontare la terapia scusate se la dico in maniera riassuntiva però è per darci un'idea infatti per esempio lui faceva le sue sedute nella cantina della casa e Cristina Ricci ha raccontato che spesso sentiva anche le urla appunto di queste persone che poi però dopo un po' ci facevano l'abitudine anche lei e sua sorella sono andati in terapia dal padre hanno fatto questa terapia dell'urlo così ha detto tra la pubertà e l'adolescenza proprio quasi come una cosa goliardica per imparare a diciamo a capire loro stesse ecco è stato difficile reperire informazioni dettagliate sulla famiglia perché appunto come vi dicevo lei è molto riservata quello che si è capito nel corso degli anni che è stato un crescendo di aneddoti sulla sua famiglia è che lei ha subito degli abusi proprio dalla famiglia o in famiglia o comunque nell'età prima della fama perché in un'intervista al The Guardian del 2011 che ho trovato lei dice che tutti associano i suoi problemi i suoi traumi alla fama e lei dice assolutamente no è stato il contrario cioè non che non abbia avuto chiaramente problemi con la fama però dice io ho usato il lavoro per scappare dalla mia famiglia perché io non volevo stare a casa infatti lei racconta che quando andava fuori stava sempre in hotel per girare i film girava insomma il mondo comunque l'America in generale per lavoro non stava mai fermo eccetera quelle solitamente sono viste proprio come cose negative soprattutto da parte di bambini che ci sta è giusto sei lontano da casa sei in mezzo agli adulti e sei sballottato a destra e sinistra sono viste è proprio il lato negativo di questo lavoro mentre lei dice quella per me era la mia via era la mia via di fuga per non stare a casa non ha mai rivelato che cosa abbia subito è stato come dicevo un crescendo di notizie cioè passata appunto da dire che il lavoro era uno sfogo che però chiaramente fuggire da un problema familiare e rifugiarsi in un altro problema che è quello dell'ambiente di Hollywood non è una cosa salutare poi in un'altra intervista successivamente ha rivelato che suo padre era una persona intrattabile che era una persona isterica che era molto sensibile a livello da creargli paranoie e verso i 13 anni quando lui ha lasciato sua madre non si sono sentiti per molto tempo quindi questa è tutta l'informazione che abbiamo del padre infatti anche quando al The Guardian cercavano di scavare un po' di più lei ha detto assolutamente non ne voglio parlare però poi in un'intervista in un podcast nel 2020 ha raccontato che adesso che è madre si è resa conto di che cosa significa avere una situazione familiare stabile e quindi lei guardando indietro alla piccola Cristina ne viene un senso quasi di tenerezza di pena non si è ben capito che cosa intendesse vi ripeto queste sono le uniche informazioni che ha detto sulla famiglia ha parlato anche bene della madre e della sorella dicendo che loro l'hanno aiutata a rimanere con i piedi per terra però è sempre stata molto vaga sulla questione dicendo semplicemente che ha subito degli abusi e dei traumi prima di diventare famosa quindi l'unica cosa che viene in mente e poi un collegamento che faremo dopo in un'altra intervista che ha rilasciato con delle cose che gli sono successe nel 2020 molto brutte e lì forse si può ricollegare un qualcosa però tutto quello che dice lei è tutto da dedurre cioè perché non è un tipo che ti dice mi è successo questo questo e questo e vi ripeto ci sta è legittimo ognuno ha diritto alla sua privacy comunque tornando alla storia familiare la famiglia poi si trasferisce in New Jersey e lei a New York frequenta una scuola teatrale lei ha iniziato a recitare a casa davanti alle sue sorelle dice per avere un clima familiare piacevole questa cosa mi ha ricordato molto Jim Carrey perché non so se vi ricordate ne abbiamo parlato in questo video che Jim Carrey aveva iniziato a fare le smorfie davanti allo specchio per allegrare sua madre e lei dice che ha iniziato a recitare proprio per creare dei piccoli spettacoli in casa per insomma per un ambiente più sereno quindi che sia successo qualcosa magari tra il padre e la madre e l'abbia spinta diciamo a cercare di voler perché poi lei è la più piccola a cercare di voler insomma rendere l'ambiente un po' più sereno vedete dobbiamo deturre da quello che dice e quindi che cosa succede? che viene scoperta da un talent scout durante una recita dei 12 giorni di Natale fatta a scuola e pensate che rido perché praticamente lei ha fatto la protagonista in questi 12 giorni di Natale in questo spettacolo ma la protagonista inizialmente era un'altra bambina ma che cosa è successo? che siccome Cristina Ricci voleva assolutamente fare la protagonista ha cercato di sabotare l'altra ragazzina praticamente l'ha provocata talmente tanto che questa ragazzina ha iniziato ad arrabbiarsi e le ha tirato un pugno in faccia quindi per punizione è stata cacciata dallo spettacolo e lei ha avuto la parte da protagonista e mentre ha raccontato questo aneddoto ha detto ero molto ambiziosa all'epoca cioè si è comportato esattamente come si comporterebbe Mercoledì Adams comunque lei inizia con degli spot si butta appunto nei crovini inizia con degli spot pubblicitari quando era piccola fino a che non interpreta nel 1990 fa una parte nel film Sirene con Cher e Winona Ryder poi Cristina ha interpretato Mercoledì Adams nel film della famiglia Adams dunque lei per me è proprio Mercoledì Adams cioè rispetto a Mercoledì di Netflix mi piace di più il suo personaggio sicuramente e probabilmente la scelta registica sarà stata diversa però nel film della famiglia Adams viene cioè rimane il tetro il cupo l'inquietante della famiglia ma vista sotto una chiave comica una satira una presa in giro qualcosa che comunque ti fa ridere e la sua interpretazione di Mercoledì è stata veramente veramente eccezionale tant'è che lei ha detto che si è dovuta sforzare molto perché in realtà lei è molto simpatica ride sempre soprattutto quando era piccola quindi ha detto fare quel tipo di personaggio ho fatto fatica però alla fine mi è riuscito mentre nel mercoledì di Netflix ha un tono un po' più serioso cioè si toglie la comicità a mercoledì e quindi io per me io preferisco più Mercoledì Adams di Cristina Ricci però Cristina Ricci ha partecipato anche a Mercoledì di Netflix facendo credo che fosse la professoressa se non mi ricordo male io preferisco i film della famiglia Adams alla serie però chiaramente poi insomma nulla da togliere a Jenna Ortega assolutamente e quando lei è andata a fare il provino per Mercoledì Adams era tardi era sera tardi lei aveva già fatto tanti altri provini a questo non ci voleva andare perché era stanca comunque era piccola era stanca la madre l'ha costretta l'ha spinta ha detto no dai andiamo tanto è l'ultimo poi torniamo a casa quindi lei è andata a fare il provino passatemi il termine completamente scazzata cioè ha detto sono andata scazzata è stanca e ho avuto la parte perché era proprio quella la faccia che dovevo avere però questa cosa mi ha acceso un'altra red flag come dicevo dobbiamo sempre andare a deduzioni qua oggi detective del fatto che nonostante tua figlia ti dica sono stanca tu la costringe ad andare anche un altro provino il che mi fa pensare come se ci fosse la stessa situazione familiare un po' come abbiamo visto non proprio a quei livelli ovviamente però per tutte le altre baby star come ad esempio Jeannette McCurdy perché alla fine la storia delle baby star è sempre la stessa cioè i genitori non riescono a mi viene in spagnolo buscarsi la vita cioè cercarsi la vita risolversi la vita non mi veniva quando non riesco a risolversi la vita provano a buttare i figli nel mondo dello spettacolo sperando che faccia milioni infatti lei racconta che aveva avuto questo accordo iniziale con i genitori in cui avrebbe recitato fino a che lo trovava divertente nel momento in cui non lo avesse trovato più divertente poteva smettere il problema si è capito che in un'altra intervista in cui ha raccontato questo ha detto che lei verso i 17 anni ha capito che la scrittura creativa era la sua strada era la sua passione aveva mandato aveva fatto domanda alla Columbia University ed era stata accettata che succede però che decide di non andare per non smettere di recitare perché si sentiva addosso il peso di dover mantenere la famiglia anche quest'altra cosa delle baby star quindi il fatto che la madre la portasse ai provini il fatto che lei poi non ha voluto smettere mi ha fatto un po' capire che comunque magari anche sua madre questo è sempre deduzioni dalle storie che abbiamo visto l'abbia un po' spinta cioè l'abbia cresciuta con il peso che era lei che doveva mantenere tutta la famiglia perché lei dice io guadagnavo bene facevamo lo stile di vita più che dignitoso ma non avevamo abbastanza soldi da dire ok smetto per qualche anno e campiamo di rendita lui ha detto assolutamente no quindi se avessi smesso di lavorare per andare all'università e poi la mia famiglia come campava e quindi è cresciuta con questo peso addosso che è quello con cui crescono tutti gli attori bambini in america comunque tornando al succo del discorso la famiglia adams ha avuto un grandissimo successo il film con quasi 200 milioni di incassi con un budget di 30 milioni poi arrivò il 93 e quindi chiaramente è uscito la famiglia adams 2 perché ovviamente se ti sei fatti milioni col primo te li fai anche col secondo però come tutti i sequel che abbiamo ne abbiamo parlato in diversi video i sequel non raggiungono mai i numeri del primo infatti molti attori si rifiutano di fare i sequel perché sanno che sono più un flop rispetto al primo anche se questo ha guadagnato 60 milioni al cinema quindi rispetto ai 200 milioni del primo meno ma ha poi ripreso piede con l'home video cioè con le VHS con le cassette per chi non lo sapesse che è più giovane si mettevano nel videoregistratore erano le cose prime dei DVD del Blu-ray e dello streaming così per andare avanti io c'ero e quindi il film poi ha ripreso piede con l'home video perciò anche quello è diventato un cult e ad alcuni è piaciuto anche più il secondo del primo poi nel 95 ha girato Casper un film bellissimo pensate che Casper è stato il primo film in cui il protagonista era fatto tutto in CGI è un film meraviglioso ma quanto è bello Casper raga è bellissimo fatto benissimo e lei faceva appunto la ragazza che andava a vivere nella villa impestata da Casper e dagli zii poi nel 95 ha girato altri film come ad esempio un'avventura pericolosa e amiche per sempre poi ha fatto Tempesta di Ghiaccio al posto di Natalie Portman perché i genitori di Natalie Portman rifiutarono la parte perché la consideravano troppo sessualizzata per una ragazzina quindi l'ha presa lei al posto di Natalie non l'ho visto quel film quindi non so se effettivamente i genitori di Natalie Portman avessero ragione o meno se l'avete visto fatemi sapere io non l'ho visto riceve una nomination al Golden Globe con il film The Opposite Sex e poi recita accanto a Johnny Depp nel mistero di Sleepy Hollow di Tim Burton che incassa 200 milioni con un budget di 100 milioni ha fatto tantissimi altri film ora per non perderci troppo ho messo diciamo gli esordi e le cose più importanti però cerchiamo adesso di capire tramite le sue interviste sempre un po' criptiche che cosa ha passato lei con la fama l'ambiente di Hollywood come sappiamo non è ideale per nessuno ha maggior ragione per dei ragazzini quindi fin da quando era piccola ha cominciato a sviluppare un disturbo sul peso chiaro prima fase è sempre quella perché appunto lei diceva che anche quando era piccola magari provava i costumi di scena se non le stavano bene non è che la gente ti risparmiava di critiche cioè le persone che lavoravano lì dicendo eh no questo non si adatta ai tuoi fianchi larghi questo non si adatta alle tue gambe tozze questo non si adatta cioè non era mai colpa del costume era sempre colpa tua inoltre a un certo punto quando è entrata in pubertà lei sembrava ancora più sembrava ancora piccolina quindi il mondo di Hollywood le disse se vuoi continuare ad avere le parti devi cercare di rimanere bambina perché spesso fanno così prendono attori più grandi quindi magari una ragazzina di 12 anni interpreta una ragazzina di 8 però a 12 anni quindi è più brava più sveglia rispetto a una ragazzina di 8 e quindi le avevano messo questa pressione addosso quindi lei si era fissata che doveva rimanere sempre bambina perciò ha sviluppato diversi disturbi alimentari che sono sfociati poi nell'anoressia lei dice di essere stata fortunata perché appena la sua famiglia visto che stava diventando anoressica l'hanno portata subito in clinica quindi è guarita abbastanza subito si ritiene molto fortunata perché dice la mia guarigione è stata molto più rapida e meno brusca di tante altre baby star che sono un po' lasciate a loro stesse e quindi poi finiscono per distruggersi del tutto quindi Cristina poi e qui dobbiamo capito dobbiamo sempre interpretare perché Cristina quando ha rilasciato la dichiarazione su Aston Kutcher e Mila Kunis che hanno difeso Danny Masterson che ne abbiamo parlato nell'altro video ha detto appunto che bisogna abituarsi al fatto che amici che conosci nel mondo dello spettacolo possano essere dei predatori quindi già un po' ti fa capire che forse lei ha conosciuto qualcuno ma aggiunge anche sfortunatamente ho conosciuto dei ragazzi fantastici che erano adorabili con me e che hanno dimostrato poi però di essere delle persone abusanti nel privato ho avuto anche un'esperienza personale con questo credete alle vittime perché non è facile farsi avanti quindi anche qui non racconta che cosa ha subito non si sa però racconta che anche lei inevitabilmente statisticamente marcio come il mondo di Hollywood è finita in qualche situazione strana oltre ai disturbi alimentari ha sviluppato anche l'ansia lei ha sviluppato l'ansia per diversi motivi ansia attacchi di panico come abbiamo visto ad esempio per Miley Cyrus prevalentemente per due ragioni la prima era le aspettative che lei non sono le aspettative del pubblico non parla tanto di quelle del pubblico ma parla di quelle della produzione perché lei dice dovevi cercare di accontentare tutti quindi io sono cresciuta con una maschera cioè io non ho potuto avere un'identità mia perché io sono dovuta crescere con questa maschera in cui dovevo accontentare tutti i registi eccetera perché ogni mossa sbagliata potevi finire nella blacklist e non lavorare più quindi io mi ero autoconvinta che non potevo essere me stessa ma dovevo necessariamente accontentare tutti quanti e questo mi ha sviluppato un grandissimo senso di ansia perché non potevo non sapevo chi ero ed è la stessa cosa che racconta Miley Cyrus se ci pensate dice io a un certo punto mi sono ritrovata adolescente un'adolescente rabbiosa e frustrata perché doveva sempre accontentare tutti non potevo far vedere che la fama mi stava distruggendo ma uscivo sempre in televisione tutta felice ma in realtà era una maschera in più veniva trattata come un'adulta quindi anche le domande che le facevano nei talk show per esempio erano domande da persone adulte cioè quando aveva 15-16 anni le chiedevano un'opinione sull'industria un'opinione sulle questioni femminili e lei dice io avevo 15 anni ma sembrava che dovessi necessariamente farmi un'idea di un qualcosa cioè io non avevo avuto nessuna esperienza se non andare sul set a recitare non avevo vissuto l'adolescenza non avevo vissuto degli eventi che mi facessero formare delle opinioni anzi non sapevo neanche chi ero e quando andava in questi talk show sentiva la pressione di dover necessariamente dimostrare qualcosa perché ti trattano come se fossi un adulto cioè tu non vai a chiedere a una ragazzina che cosa ne pensi di questa cosa perché ha ancora tanto da imparare invece ogni volta che andava in un'intervista sembrava che dovesse dimostrare qualcosa e quindi si scatenava tutto il meccanismo oddio se non dimostro qualcosa non piaccio a nessuno oddio di qua oddio di là e quindi le venivano le crisi d'ansia attacchi di panico infatti lei nel corso degli anni ha rilasciato delle interviste piuttosto criptiche con frasi molto nichiliste cioè con frasi molto ciniche del tipo tanto dobbiamo morire tutti cioè le rispondeva così alle domande perché appunto lei dice io sono diventata un'adolescente arrabbiata arrabbiosa a cui però veniva messo un microfono in mano per fare l'intervista quindi dicevo frasi a caso perché avevo paura delle aspettative quindi volevo quasi sembrare intelligente quindi magari rispondeva a frasi tipo tanto dobbiamo morire tutti tanto nulla di questo è reale cioè delle frasi che sembravano veramente quelle di Mercoledì Adams lei dice io non volevo davvero dire quelle cose però non sapevo che dire cioè ero completamente persa in un mondo fatto di adulti e io venivo trattata come un'adulta infatti sempre Algardia racconta che la cosa più strana della fama precoce è il riconoscimento il riconoscimento è l'aspettativa che tu possa essere qualcuno perché sei famoso quindi è sempre rimasta molto vaga anche sulle conseguenze che ha avuto la fama dice che con il fatto di essere sul grande schermo comunque avevi sempre eri sempre esposta al giudizio altrui e questo già questo ti faceva veramente salire il panico la cosa che diciamo che non le ha permesso di esplodere come tutte le altre baby star è stata la sua manager perché lei ha avuto ah ancora la stessa manager da quando ha dieci anni ha detto è una donna molto forte che mi ha tenuto coi piedi per terra mi diceva come comportarmi come affrontare determinate situazioni senza crollare quindi è stato grazie a lei che io ho saputo affrontare tutto questo e non sono crollata come tante altre baby star inoltre un periodo è finita anche nella lista nera di hollywood perché come succedeva spesso io soprattutto in quegli anni è successo Heath Ledger a Matthew McConaughey o a tante altre persone che se eri belloccio o belloccia venivi classificata magari da commedia romantica per esempio lei invece voleva delle parti più profonde e uno appunto era difficile uscire dal diciamo dalla segnazione che hollywood ti aveva dato quindi continuava a rifiutare parti e perciò era finita sulla lista nera perché dopo un po che rifiuti non ti chiamano più secondo lei dice all'epoca non c'erano delle parti vere e proprie interessanti per le donne cioè le donne erano descritte sempre molto più superficialmente difficilmente trovavi un personaggio interessante all'epoca come magari invece veniva scritto un uomo e quindi le parti erano anche meno profonde e ha detto che adesso invece la situazione è cambiata quindi è contenta certo adesso vedo che si impegnano nello scrivere le donne prima le donne erano solo amore e pianti ha detto invece adesso c'è del profondo anche nei ruoli femminili adesso si è data alle serie tv infatti nel 2021 ha recitato in yellow jacket ottenendo una seconda candidatura come migliore attrice e nel 2022 è tornata appunto nei panni della prof di mercoledì ma ma i drammi per Cristina non sono finiti qui non sono finiti qui perché che cosa succede lei nel 2011 si innamora di James Edergin che era un tecnico delle telecamere conosciuto sul set di Pan Am nel 2013 si sposano e nel 2014 hanno avuto il loro figlio Freddy all'inizio relazioni di liaca bla 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 tutto perfetto diciamo a un certo punto nel corso degli anni James cambia la loro relazione diventa instabile e lei a cavallo tra il 2019 e il 2020 voleva separarsi perché lui aveva iniziato ad essere violento sia fisicamente che psicologicamente che emotivamente quindi lei ha detto sai che c'è io scappo e me ne vado perché non voglio rivivere la stessa situazione che ho vissuto quando ero piccola ed ecco che vi dicevo l'altro tassello della famiglia perché lei dice sicuramente col fatto che io da piccola ho vissuto un determinato tipo di situazione da adulta poi mi ci sono ritrovata di nuovo che spesso purtroppo succede un meccanismo psicologico che ora io non ho le facoltà per spiegarvi però può succedere che chi ha ricevuto degli abusi poi si ritrovi sempre in situazioni di abusi quindi da questa cosa capiamo che forse forse suo padre era violento con sua madre forse ripeto dobbiamo sempre dedurre perché è molto criptica lei quindi che succede che a cavallo tra il 2019 e il 2020 cioè verso dicembre diciamo quindi dice ok adesso divorzio buonanotte ce ne andiamo io e Freddy il problema è che arriva la pandemia quindi arriva la pandemia arriva il lockdown quindi lei si trova confinata in casa con un marito abusante con un marito violento e infatti lei si è fatta diverse foto che poi ha condiviso anche in richiesta di aiuto in cui era tutta piena di lividi eccetera perché racconta che il marito ad esempio un giorno davanti al figlio di Freddy di sei anni le ha tirato una sedia addosso le ha tirato una tazza di caffè bollente addosso e a un certo punto ne ha detto anche una frase inquietante cioè non proverò mai pena per te a meno che tu non sia ridotta in pezzettini quindi lei ha cominciato chiaramente a temere per la sua vita ha passato quasi tutto il lockdown chiusa insieme al figlio nella camera da letto con la paura che lui potesse far qualcosa di estremo quindi appena finita la pandemia subito ha chiesto un ordine restrittivo d'urgenza ha portato tutte le prove dei lividi al giudice eccetera che gliela ha concessa e quindi il marito non poteva avvicinarsi più di 300 metri credo da lei e il figlio è partita tutta la causa di divorzio hanno lottato per la custodia perché anche lui voleva la custodia congiunta lei è riuscito a ottenere la custodia totale ma lui ha dei diritti di visita nei confronti del figlio e lui ha cercato anche di negare tutto dicendo che la pazza era lei che si stava inventando tutto che beveva molto però c'erano tutte le foto di proprio lividi ustioni e quindi insomma lei è riuscito a ottenere la custodia del figlio infatti ho trovato un'intervista del novembre del 2022 col The Sunday Times che dice che racconta un po' appunto tutte queste cose che aveva paura di morire eccetera e dice lo sto raccontando non perché io mi sento una vittima perché io non mi sento una vittima però a me è servito leggere di storie di persone che ce l'hanno fatta che sono riuscite ad uscire da contesti abusanti mi hanno fatto coraggio e quindi io voglio fare coraggio a qualcun altro e non guardatemi come vittima ma prendete spunto dalla mia situazione e uscite neanche voi ed è anche per questo che poi insomma lei si è accanita particolarmente guasta un cuccere il mila kunis per la questione di danny masterson e capisco anche il motivo da luglio 2021 però christina ricci in una nuova relazione con mark hampton con il quale ha avuto una figlia quindi questa è la storia di christina ricci da come abbiamo dedotto pare che la sua vita sia stata identica a quella delle altre baby star con purtroppo questi risvolti tragici dell'anno scorso di due anni fa insomma tre anni fa e lei non ne ha come vi dicevo è sempre stata un po' riservata ultimamente vedo che si sta aprendo un po' di più infatti appunto l'intervista che ho visto era dell'anno scorso dove dice che guardandosi indietro guardando la piccola christina prova un sacco di tenerezza perché capisce che non ha vissuto in un ambiente salutare a livello familiare però vi ripeto lei è molto vaga su questo che per carità vi ripeto ci sta cioè che deve dire le cose per far fare video a me quindi è tutto un video di deduzione mettiamola così però sicuramente alla fine questo è l'ennesimo caso che conferma di quanto effettivamente non sia giusto buttare i bambini così a capofitto in un'industria così spietata che già è difficile superarla per gli adulti figuriamoci per i bambini bene ragazzi questo era il video su christina ricci noi ci vediamo dopo domani per un altro video quindi buon martedì ciao ciao